Il dissidente cinese Ai Weiwei deve versare al fisco l'equivalente di oltre 1.700.000 euro. L'artista ha detto di aver ricevuto una diffida che gli intima di pagare entro 15 giorni, pena a una condanna fino a 7 anni, e di non aver avuto spiegazioni in merito. Weiwei è stato detenuto per due mesi con l'accusa di evasione.